Chekhov, il padre di famiglia. Ciò capita di solito dopo una buona perdita al gioco o dopo una visboccia, quando gli si scatena il catarro. Stepan Stepanich Zillin si desta in una disposizione inconsuetamente fosca. Ha un aspetto agro, sciupato, scarruffato. Sul volto grigio un'espressione di malcontento. Vuoi che sia offeso, vuoi che sia disgustato di qualche cosa. Si veste lentamente, lentamente beve il suo vichy e comincia a girare per tutte le stanze. Vorrei sapere che bestia va per qui e non chiude gli usci. Bronto lastizoso, avvolgendosi nelle veste da camera e scatarrando forte. Riporre questa carta. Perché è qui in giro? Teniamo venti servi e c'è meno ordine in una bettola. Chi ha suonato? Chi è venuto? È nonna Anfissa, quella che ha visto nascere il nostro Fedia, risponde la moglie. Bazzicano qui, mangia ufo. Non ti si capisce, Stepan Stepanich. Tu stesso l'hai invitata. E ora sbraiti. Io non sbraito, ma parlo. Faresti meglio a occuparti di qualcosa, mammina, invece di startene così, con le mani in grembo, a cercare di attaccare briga. Non capisco queste donne, sull'onor mio, non le capisco. Come possono passare giornate intere senza far nulla? Il marito lavora, si dà da fare, come un bue, come una bestia. E la moglie, la compagna della vita, se ne sta lì come un gingillo. Non fa niente. Aspetta solo il resto di litigare dalla noia col marito. È tempo, mammina, di smettere queste abitudini da collegiale. Tu ora non sei più un'educanda, non una signorina, ma una madre, una moglie. Ti volti di là? Dispiace ascoltar verità amare. Strano che le verità amare tu le dica soltanto quando ti fa male il fegato. Sì, comincia a far scene, comincia. Tu ieri sei stato fuori città o hai giocato da qualcuno? E se così fosse, a chi deve importare? Sono forse tenuto a dar conto a qualcuno? Forse che perdo quattrini non miei? Ciò che io stesso spendo e ciò che si spende in questa casa appartiene a me. Sentite? A me. E così via, sempre su questo metro. Ma in nessun altro momento, Stepan Stepanich è così giudizioso, virtuoso, severo e giusto come a pranzo, quando intorno a lui siedono tutti i suoi di casa. Si comincia solitamente dalla minestra. Inghiottita la prima cucchiaiata, Zillin, d'un tratto, aggrotta le cidia e smette di mangiare. Non sa il diavolo che cosa, borbotta. Toccherà, si vede, pranzare in trattoria. E che c'è? Si mette in apprezzione la moglie. Forse la minestra non è buona? Non so che gusto da maiale bisogna avere per mangiare questa broda. Troppo salata, puzza di stracci, cimici in luogo di cipolle. E' semplicemente rivoltante, Anfissa Ivanovna. Si rivolge alla nonnina ospite. Ogni giorno dai un sacco di soldi per la spesa. A te ti neghi tutto. Ed ecco di che ti nutrono. Vogliono probabilmente che lasci il servizio. E vada io stesso in cucina, a cucinare. La minestra oggi è buona, osserva timidamente l'istitutrice. Sì, vi pare? Dice Zillin sbirciandola airoso. Per resto ciascuno ha i suoi gusti. In generale, bisogna riconoscerlo, noi differiamo grandemente nei gusti. Barbara Vassilievna. A voi, per esempio, piace la condotta di questo monello? Zillin, con un gesto tragico, indica il proprio figlio Fedia. Voi andate in estasi per lui. E io? Io sono indignato. Sì, signora. Fedia, un ragazzino di sette anni, dal viso pallido, malaticcio, smette di mangiare e abbassa gli occhi. Il suo volto impallidisce ancora di più. Sì, signora, voi andate in estasi e io sono indignato. Chi di noi abbia ragione non so, ma oso pensare che io, come padre, conosco mio figlio meglio di voi. Guardate come sta seduto. Stan forse seduti così, i fanciulli educati? Sì, si è di per benino. Fedia alza su il mento e allunga il collo e gli pare di sedere più composto. Nei suoi occhi spuntano lacrime. Mangia, tieni il cucchiaio come si deve. Aspetta, aggiusterò io, brutto monello. Non osa piangere. Guardami dritto. Fedia si sforza di guardar dritto, ma il viso gli trema e gli occhi gli si riempiono di lacrime. Ah, tu piangere. Hai torto e piangi. Vattene, mettiti nell'angolo, animale. Ma che pranzi prima, interviene la moglie. Senza pranzo. Tali mas, tali monelli non hanno il diritto di pranzare. Fedia, storcendo il viso e con moti convulsi in tutto il corpo, scivola dalla sedia e va nell'angolo. Se no avrai il resto, continua il genitore. Se nessuno vuole occuparsi della tua educazione, sia pure. Comincerò io. Con me, caro, non farai il monello e non piangerai a pranzo. Scioccone. Bisogna darsi da fare. Capisci? Darsi da fare. Tuo padre lavora. Lavora anche tu. Nessuno deve mangiare il pane a ufo. Bisogna essere uomo. Uomo. Smetti, per l'amor di Dio, prega la moglie in francese. Almeno in presenza di estranei, non sbranarci. La vecchia sente tutto. E ora, in grazia sua, tutta la città saprà. Io non ho timore degli estranei, risponde Zilin in russo. Anfissa Ivanovna vede che io dico giusto. E che, secondo te, devo essere contento di questo ragazzaccio? Sai quanto mi costa? Lo sai? Brutto monello. Quanto mi costi? O credi che i soldi rifabbrichi? Che mi tocchino gratis? Non frignare. Silenzio. Ma mi senti o no? Vuoi che ti frusti? Farà butto che sei? Fedia strilla forte e comincia a singhiozzare. Questo, infine, è intollerabile, dice sua madre alzandosi da tavola e gettando il tovagliolo. Ma è che ci lasci pranzare in pace. Ecco che me ne fa del tuo boccone. Ella accenna alla nuca e, portato il fazzoletto agli occhi, esce dalla sala da pranzo. Sei offesa la signora, brontola Zilin con un sorriso forzato. Educata al tenero. Ecco lì, anfissa Ivanovla. Non garba oggi di sentire la verità. E poi il torto è nostro. Passano alcuni minuti in silenzio. Zilin dà un'occhiata in giro ai piatti e, accoltosi che nessuno ha toccato ancora la minestra, sospira profondamente e squadra a bruciapelo il viso arrossato, pieno di apprensione dell'istitutrice. «Perché non mangiate, Barbara Vassilievla?» Domanda. «Vi siete dunque offesa?» «Così, eh?» «La verità non piace. Su, via, scusate. Tale è la mia natura. Non posso far l'ipocrita. Dico sempre la verità, chiara e tonda.» Un sospiro. «Osservo però che la mia presenza è sgradita. Davanti a me non possono né parlare né mangiare. Ebbene, se me l'avessero detto, sarei uscito. E uscirò!» Zilin si alza e con dignità va verso l'uscio. Passando accanto a Fedia piangente, si ferma. «Dopo tutto ciò che qui è accaduto, voi siete libero!» Dice Fedia, gettando indietro la testa con dignità. «Io nella vostra educazione non mi mischio più. Me ne lavo le mani. Dovendo scusa che sinceramente, come padre, volendo il vostro bene, ho disturbato voi e le vostre dirigenti. In pari tempo, una volta per tutte, mi scarico della responsabilità per la vostra sorte.» Fedia strilla e si inghiozza ancor più forte. Zilin con dignità gira verso l'uscio e se ne va nella sua camera. Zilin, fatta una buona dormita dopo pranzo, comincia a sentir rimorsi di coscienza. Gli rincresce della moglie, del figlio, di Anfissa Ivanovna, e prova persino una pena insopportabile al ricordo di ciò che è stato a pranzo. Ma l'amor proprio è troppo grande. Manca il coraggio di essere sincero. Ed egli continua a fare il broncio e a brontolare. Gestatosi il mattino del giorno dopo, si sente d'ottimo umore e nel lavarsi fischietta allegramente. Giungendo in sera da pranzo a bere il caffè, vi trova Fedia, che alla vista del padre si alza e lo guarda smarrito. «Beh, che c'è, giovanotto?» domanda gaiamente Zilin, sedendo a tavola. «Che avete di nuovo, giovanotto? Te la passi bene? Su, vieni, bofficcione. Da un bacio a tuo padre!» Fedia pallido, con la faccia seria, si avvicina al padre e sfiora con le labbra tremanti la sua guancia. Quindi si scosta e in silenzio siede al suo posto. «Beh, che c'è, giovanotto?»